Puliamo Piacenza ha fatto tappa a Castel San Giovanni. L'iniziativa, promossa da Editoriale Libertale, Gambiente, Plastic Free, IREN, nella città capoluogo di Vallata ha acceso i riflettori su di un problema di cui forse poco si discute, cioè quello delle zone utilizzate dagli autotrasportatori in attesa di scaricare nel vicino parco logistico. Aree appartate, come quella di Via Rossetti, dove si è concentrata la raccolta dei rifiuti da parte dei volontari. Aree non attrezzate, spesso prive di servizi genici e cassonetti, che per questo diventano facili al ricettacolo di rifiuti di ogni tipo. Come testimoniano le due tonnellate e mezzo di immondizia raccolta in poche ore dai volontari armati di pinze e guanti. Inizialmente aspetta alle varie organizzazioni, anche a livello comunale, di sensibilizzare la gente. Poi ovviamente la gente deve comunque tenere fuori la buona volontà per andare anche proprio sul posto, anche vicino a casa, non serve andare tanto lontano per cercare di tenere un po' più pulito l'ambiente dove si vive e nelle nostre città. Il sindaco Lucia Fontana ha promesso di coinvolgere le aziende della logistica perché si facciano anche se carico del problema. Realizzare luoghi attrezzati per l'utilizzo da parte delle attività dei camionisti, degli autisti di camion, è quello che sarà un impegno dell'amministrazione, d'intesa peraltro con gli imprenditori privati. Perché è chiaro che il peso anche economico, soprattutto non tanto della realizzazione ma della manutenzione di queste aree, non deve andare esclusivamente a carico di quella che è la spesa che si abbatte su una comunità. Per Legambiente le iniziative possibili sono diverse. Non soltanto la pulizia dei rifiuti, perché i cassonetti ci sono, ma si potrebbero fare anche delle iniziative per sensibilizzare gli autotrasportatori a fare la differenziata e comunque a non buttare nei canali i rifiuti. Dall'altra però adottare di servizi queste aree per i camionisti e questo può essere fatto, appunto dicevo, in collaborazione col comune ma anche tramite i privati stessi in una sorta di convenzione. Da Via Rossetti sono partiti quattro furgoni carichi di vetro, plastica, batterie, scarti edili, copertoni di auto e, dulcis in fondo, lastre di amianto.